Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a parlare degli unboxing futuri che ci saranno a settembre. Per ora quelli previsti a inizio settembre. Innanzitutto abbiamo preso diverse cose. Abbiamo, per realtà, 4 pacchi in arrivo. 5 in teoria, ma non si sa ancora perché abbiamo acquistato un microfono da 2€ che praticamente è il condensatore che si attacca sopra la reflex con un codice sconto però non abbiamo ancora capito se ci arriverà oppure no. Però, innanzitutto, andiamo a vedere le cose riguardante l'argomento spia. Infatti abbiamo acquistato due tipi di sistemi spia. Il primo sono gli occhiali spia versione nuova 2016 che sono veramente molto più leggeri. Poi andremo a vedere tutto in specifico, però sono quelli che vi stanno uscendo in questo momento. Per seconda cosa abbiamo acquistato un'altra versione, la versione 2016, cioè l'ultima versione che ci mancava della nostra penna spia, che in questo caso state vedendo in questo momento. Ed in più andremo ad affrontare ancora l'argomento elettronica. Infatti l'argomento elettronica che andremo ad affrontare sono esattamente due argomenti in uno specifico. Innanzitutto abbiamo acquistato altri 25 LED, perché mi avete chiesto come si costruisce un faretto normalissimo da telecamera che può raggiungere fino a 5 metri di distanza di luce. E abbiamo appunto acquistato questi LED, che poi vi mostrerò come si costruisce. E poi come seconda cosa abbiamo acquistato anche uno step down, cioè un regolatore di tensione, che regola una tensione dai 3,3V fino ai 35V. In realtà perché il mio alimentatore da studio per fare gli esperimenti è questo qui, è un semplice alimentatore ATX modificato per funzionare e sprigiona praticamente fuori 3,3V, 5V, 12V, 12V, 12V e 12V. Però, detto sinceramente, a me mi serve più variabile. Quindi per questo abbiamo acquistato questo alimentatore da 2€ totali, per farvi capire. Quindi è pochissimo, è veramente costruito proprio in maniera basilare. Comunque questi sono un po' gli argomenti. In teoria c'è appunto anche questo microfono che vi sto mostrando in questo momento, ma che non si sa se arriverà mai. E oltre a quello c'è anche il mega unboxing di Daniele che ci dovrà arrivare, ma anche lì siamo in fase sospesa, anche perché praticamente non sappiamo ancora nulla riguardante il secondo pacco che ci vorrà spedire Daniele. Per il resto da Computer Museo è tutto, grazie ancora per aver visualizzato questo video, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!